Una proroga di sei mesi delle indagini preliminari per smascherare il presunto raggiro fiscale messo a punto da 25 medici odontoi altri della provincia di Bari. I finanzieri, coordinati dalla PM della Procura di Bari-Luisiana di Vittorio, hanno avviato le verifiche da tempo, culminate in un'inchiesta formalmente partita nel luglio del 2021 e ora la Procura ha chiesto ed ottenuto dalla GIP Paola Angela De Santis una proroga ulteriore di sei mesi. L'avviso di proroga delle indagini preliminari è stato notificato in tutto a 26 persone, i 25 dentisti, la gran parte di Bari e gli altri della provincia e l'ingegnere informatico che avrebbe messo a punto e fornito il software con il quale i professionisti sarebbero riusciti a nascondere la contabilità in nero delle loro attività. La proroga delle indagini servirà non soltanto per concludere gli accertamenti tecnici ma anche per accogliere le testimonianze di centinaia di clienti che i finanzieri stanno convocando e sentendo in questa settimana.